In un contesto come quello che stiamo vivendo in cui le imprese faticano a ricevere credito dalle banche, i 50 milioni messi a disposizione dalla BEI, grazie all'accordo con Medio Credito, sono un'importante boccata di ossigeno per l'economia locale. Sono una vera boccata d'ossigeno nel momento in cui la liquidità è carente e gli investimenti devono riprendere, grazie all'accordo con la Regione che garantirà il presto BEI per 50 milioni e la banca potrà fornire sviluppo e ossigeno all'economia locale. Come ci ha anticipato, la Regione Trentino Alto Adige partecipa all'operazione in veste di garante del credito. Garante che ci consente di riversare sul territorio regionale, quindi nella provincia di Bolzano e nella provincia di Trento, il finanziamento a supporto di programmi di investimento. A favore di quali aziende saranno destinate queste risorse? 50 milioni di euro. 50 milioni che verranno riversati per il 70% a PMI, cioè aziende che hanno fino a 250 persone occupate, e un 30% per media grandi aziende che hanno fino a 3.000 occupati. Quali investimenti potranno essere ammessi a finanziamento? Quelli tradizionali, ma anche quelli più innovativi. Per tradizionali intendiamo impianti, macchinari ed immobili. Quelli più innovativi, quelli che quindi caratterizzano lo sviluppo delle aziende, in infrastrutture, immobilizzi di ricerca e materiali. Quale vantaggio in termini di tasso avranno i beneficiari del finanziamento? Un vantaggio significativo, molto semplice, un vantaggio che si può in qualche modo configurare con un risparmio dell'1% sul tasso finale di operazioni analoghe di mercato. Da quando sarà possibile accedere ai fondi e quale sarà la durata tecnica che avranno i finanziamenti? I fondi sono già fruibili, stiamo già deliberando le prime operazioni, quindi i nostri uffici sono ben disponibili a esaminare le richieste di finanziamento. La durata è quella tipica di operazione medio-lungo termine, quindi fino a 15 anni per il supporto degli investimenti indicati. Grazie